Il Femme di Rivo Eh? Infame in arrivo! Non hai tanto di spiegare le armi Non mi spavento facilmente Ma con gli infami porto sempre una pistola extra Trasmatinazione! Inizio in arrivo alla piastraforma! Se vi alzze piccolo rilasciato! Se vi alzze piccolo rilasciato! Se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato! Se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato! Se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato! Se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato! Se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato! Se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato! Se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato! T siento, è un brot. Se vi alzze piccolo rilasciato! Si, se vi alzze piccolo rilasciato, se vi alzze piccolo rilasciato! Sì! Il basore nemico ha battuto! E di G d'arrivo in Zonaco! E portale a Mersos! Vai a guardar l'inigio! Il tuo alleato sta invadendo! Il tuo alleato è di ritorno! Non ha uscito alcun avversario! Felice in arrivo alla piattaforma! Il portale è pronto! Prendi la guardia! E' l'invasore! Scatena il caos! Dieci secondi! Faccio rientrare! Edito! 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!